I carabinieri della stazione di Salemi hanno arrestato un pregiudicato nato in Germania ma residente a Salemi di 50 anni in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per i reati di adescamento di minori, atti sessuali con minorenni e pornografia minorile. L'arrestato deve espiare una pena di un anno e mezzo di reclusione per i reati commessi negli anni 2015 e 2016 a Salemi. Al termine delle formalità di rito, il cinquantenne è stato restretto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.